Per ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione che si apre con la svolta nelle indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, la giovane 29enne di origini milanesi di cui non si avevano più notizie dal marzo 2022. I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato questa mattina tre persone. Hanno finalmente un volto i presunti assassini di Marzia Capezzuti, la 29enne di origini milanesi scomparsa da Ponte Cagnano-Faiano a marzo dello scorso anno. I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Salerno hanno arrestato questa mattina Barbara Vacchiano e il marito Damiano Noschese all'Alba, nella loro abitazione a Ponte Cagnano-Faiano dove risiedeva anche Marzia dopo la morte del fidanzato Alessandro, fratello di Barbara. I carabinieri hanno eseguito anche una terza ordinanza di custodia in carcere per il figlio minore della coppia 14 anni all'epoca dei fatti ma già ristretto nel carcere di Nisida. L'accusa nei loro confronti è maltrattamenti e omicidio. I tre erano già tra i sette iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta che ha visto al lavoro la procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli e contemporaneamente anche la procura per i minori. Il corpo, privo di vita di Marzia, fu ritrovato nel pomeriggio dello scorso 25 ottobre nei pressi di un casolare a Santa Tecla di Monte Corvino Pugliano, ai confini con il comune di Ponte Cagnano. Dalla fine di ottobre si attendeva l'esito degli accertamenti tecnici da parte del RIS sul cadavere per confermare l'appartenenza alla ragazza. In attesa di una risposta, Ciro e Laura, i genitori di Marzia, percettrice di una pensione di invalidità, gli accertamenti hanno riguardato, oltre a tracce organiche, anche una serie di tabulati telefonici. Al momento altri dettagli dell'inchiesta restano ancora non noti. Fondamentale il lavoro svolto dalla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto, specializzata in persone scomparse, che è stata essenziale per rilanciare agli onori della cronaca nazionale il caso. Il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, si è recato questa mattina sul luogo dove lo scorso ottobre è stato ritrovato il corpo di Marzia Capezzuti per riporre un fascio di fiori. Da questo momento la giovane Marzia potrà finalmente riposare in pace, ora che i suoi assassini sono stati affidati alla giustizia, ha detto il sindaco che ha espresso anche un pensiero particolare alla famiglia che da mesi combatte per conoscere la verità e porta con sé la cicatrice indelebile della perdita della figlia. Mi unisco inoltre alla comunità di Ponte Cagnano Faiano che da subito si è stretta intorno a questa triste vicenda, ha aggiunto il primo cittadino un ringraziamento anche alle forze dell'ordine per il lavoro svolto e a quanti hanno contribuito affinché la verità emergisse. E dalla cittadella giudiziaria di Salerno, dagli uffici della Procura della Repubblica arriva anche un'altra notizia, la conferma da parte del riesame dell'appello promosso dalla Procura contro un provvedimento del GIP e che conferma dunque l'applicazione della misura del carcere per l'omicidio di Mario Solimene nei confronti di Felice Celso per il quale è stata riconosciuta la gravidà anche per il reato di porto abusivo di armi. Si parla dell'inchiesta sull'omicidio di Mario Solimene, la vittima è deceduta il 26 ottobre all'ospedale De Colli di Napoli dove era stata ricoverata a seguito delle ferite d'arma da fuoco riportati in un agguato il 29 settembre ad Eboli. A Felice e Gaetano Celso erano stati contestati delitti di furto in abitazione, detenzione e porto abusivi di arma da sparo. Ma c'è un altro agguato invece che non ha ancora contorni molto chiari ed ha riguardato un pregiudicato nel quartiere di Materno ieri al lavoro i carabinieri della Compagnia di Salerno. Un solo colpo di pistola che lo ha raggiunto con precisione ad un gluteo, così ieri sera intorno alle 22.30 un 52enne di Materno Massimo Siniscalchi pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per spaccio di droga, noto nel quartiere come Bubuccio, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre camminava a piedi in via degli Etruschi poco distante dalla sua abitazione. Un colpo di pistola udito in maniera inequivocabile dai residenti della zona collinare di Salerno, che hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo giungere sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Salerno ed un'ambulanza che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove i sanitari gli hanno medicato la ferita d'arma. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi, il 52enne non è in pericolo di vita e sarà presto anche ascoltato dagli inquirenti per raccontare la sua versione dei fatti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per delineare con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto, per comprendere bene le intenzioni di chi ha sparato contro Massimo Siniscalchi, se si è trattato solo di un possibile avvertimento o di una lezione. Sembrano queste al momento le ipotesi privilegiate dagli investigatori, che stanno ricostruendo gli ambienti e le frequentazioni dell'uomo. Da indiscrezioni pare che i militari dell'arma abbiano già individuato due persone. Di nuovo spari, questa volta nella zona collinare di Matierno, dove proprio i carabinieri nei giorni scorsi hanno effettuato anche alcune perquisizioni di iniziativa in alcune abitazioni di pregiudicati del luogo, a distanza di 15 giorni dall'altro evento dei sei colpi d'arma da fuoco esplosi più o meno nella stessa ora di ieri sera nei pressi di un portone del rione Petrosino a Salerno. Le indagini sarebbero indirizzate verso la rete di spaccio in città e su possibili rivalità nella divisione del territorio per il controllo delle piazze della droga. E c'è un'altra inchiesta giudiziaria che parte dalla provincia di Salerno ma ha ramificazioni in 42 province d'Italia ed è quella attraverso la quale la Guardia di Finanza ha smascherato un sistema di truffe attorno ai fondi concessi alle imprese per la formazione dei dipendenti. La regia della truffa che è stata calcolata per un valore di 57 milioni di euro era a Cicerale. È una società con sede a Cicerale nel Cilento. La regia di una maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza che a partire dalla Compagnia di Agropoli sull'intero territorio nazionale ha visto coinvolte 279 persone con l'accusa di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti di imposta e autoriciclaggio. Secondo l'inchiesta che ha visto al lavoro 100 reparti del Corpo delle Fiamme Gialle in oltre 42 province italiane coinvolgendo 274 imprese, la società di Cicerale predisponeva e forniva alle imprese la documentazione relativa a finte ore di formazione con tanto di registri didattici delle presenze, la relazione del docente sulle attività del corso di formazione senza che i dipendenti avessero mai effettivamente seguito le elezioni. Con la complicità di alcuni delegati sindacali venivano anche redatti falsi contratti collettivi aziendali utilizzando marche da bollo contraffatte in modo da testare artificiosamente i costi sostenuti dall'impresa, retrodatando le stipule dei contratti. Coinvolti anche alcuni professionisti compiacenti che procedevano a rilasciare alle imprese beneficiare la testazione del credito di imposta che veniva immediatamente compensato. Il giro d'affare realizzato ha fruttato un illecito di circa 57 milioni di euro. al lavoro la procura di ballo della Lucania guidato da Antonio Ricci e come dicevamo la guardia di finanza in modo particolare della compagnia di Agropoli. Lasciamo la cronaca, torniamo a Ponte Cagnano-Faiano per occuparci della presentazione del piano urbanistico comunale che ieri si è soffermato sulle opportunità offerte dal progetto che ridisegna il futuro e lo sviluppo urbanistico della città dei Picentini all'ambito dell'agricoltura. Il sindaco Giuseppe Lanzara si è soffermato in modo particolare anche sulle potenzialità legate allo sviluppo del settore agricolo all'indomani dell'apertura dell'aeroporto di Ponte Cagnano. Si è soffermato sull'agricoltura che guarda al futuro il quinto appuntamento che l'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano ha dedicato ieri alla presentazione del PUCCA il piano urbanistico comunale. Un incontro molto partecipato e condiviso in cui ha trovato ampio spazio il dibattito con gli imprenditori presenti nella sede di CREA-OFF, il centro di ricerca su orticoltura e florivivaismo di Ponte Cagnano-Faiano. Come nei precedenti incontri è toccato all'assessore all'urbanistica del comune di Ponte Cagnano-Faiano Dario Baccaro introdurre i lavori presentando al pubblico presente tutti i dettagli del piano al quale è affidato il ridisegno del comune dei Picentini e il suo sviluppo puntando su mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, tutela attiva e città pubblica e articolando questi diversi aspetti con progetti specifici che vanno dalla rivalutazione dei corsi fluviali al riallaccio della città con il suo museo archeologico solo per citare alcuni dei tratti salienti. La ricoltura è uno dei settori trainanti della nostra città quindi era indispensabile dedicare un intero incontro semplicemente solo al mondo agricolo. Va valorizzato questo settore della nostra città e ci sono alcuni aspetti che come abbiamo spiegato stasera vanno sicuramente migliorati e perfezionati e l'incontro di questa sera serve anche per confrontarsi e quindi per trarre fuori dagli spunti che sono venuti quelle che saranno poi le indicazioni da portare avanti. Presente in sala anche il consigliere comunale con delega all'agricoltura Gaetano Nappi, il sindaco Giuseppe Lanzara si è invece soffermato sulle potenzialità che anche attraverso il PUC attendono il settore dell'agricoltura con il decollo definitivo dell'aeroporto situato nel suo comune. Per lo scalo nei giorni scorsi Regione Campagna e Gesac hanno annunciato l'avvio dei voli come pista ulteriore dell'aeroporto di Napoli-Capodichino con particolare riferimento e interesse al traffico merci a partire da giugno 2024. Attorno al piano industriale di Gesac c'è anche il trasporto di persone e cose quindi c'è anche tutto il tema non solo dei turisti e dei viaggiatori ma anche dell'agricoltura, delle eccellenze del nostro territorio che potranno avere ovviamente una modalità anche di trasporto più veloce grazie all'aeroporto. Quindi attorno a questa iniziativa che parlerà del piano urbanistico comunale si discuterà soprattutto delle zone economiche speciali, della possibilità per l'agricoltura di essere ancora di più riferimento e centrale all'interno del nostro piano regolatore in riguardo proprio appunto alla logistica, la possibilità anche di un piano regolamento edilizio che possa essere più snello, che possa risolvere tanti problemi e dare a questo settore che è un settore pregnante, forte del nostro territorio, ancora più prospettiva di sviluppo, di occupazione e di benessere. Torniamo ora invece nella città di Salerno dove non si placano le polemiche sulla convenzione sottoscritta tra Comune e Salernitana per la gestione dello stadio Arechi. Un gruppo nutrito di consiglieri della minoranza ha presentato una mozione da inserire all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale in programma il 28 aprile proprio per ratificare la convenzione. Un bando per la concessione per non meno di 50 anni dello stadio Arechi di Salerno con la tutela assoluta per le parti rispetto anche ad eventuali condizioni di default fallimento. E quanto ai consiglieri di minoranza Elisabetta Barone, Antonio Cammarota, Roberto Celano, Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Dante Santoro e Michele Sarno e Domenico Ventura hanno chiesto invitando il Consiglio Comunale di Salerno ad inserire nella seduta del prossimo 28 aprile programmata per ratificare la convenzione sottoscritta nei giorni scorsi e limitata a sei anni più sei al sindaco di Salerno. I consiglieri comunali hanno chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della mozione che, come si legge nella lettera inviata al primo cittadino, ricorda che in altre importanti realtà nazionali le società di calcio hanno acquisito lo stadio in proprietà o in concessione pluridecennale. Per i consiglieri d'opposizione la concessione più anni dello stadio consente alle società di calcio di avere efficaci piani di investimento programmati per rendere l'impianto moderno, funzionale e fruibile ogni giorno, al fine anche di consentire importanti ritorni economici. Gli introviti che ne deriverebbero consentirebbero alle società anche di rinvestirli per il rafforzamento dell'organico e il consolidamento della squadra nella massima categoria per il più lungo periodo possibile. I consiglieri comunali infine ricordano nella mozione che hanno chiesto di inserire all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale che l'impianto è patrimonio della collettività e di tutti i salernitani che rivivono nella squadra Granata un forte legame di appartenenza alla città. Parliamo adesso di sviluppo sostenibile al centro di un incontro promosso questa mattina a Palazzo Sant'Agostino in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti che ha registrato la partecipazione di molti sindaci del territorio salernitano. Nuovi modelli di concessione di finanziamento ed opportunità di gestione attiva del debito di questo si è parlato questa mattina a Palazzo Sant'Agostino nel corso di un seminario presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della provincia di Salerno dal tema strumenti e opportunità offerte agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal gestore dei servizi energetici per lo sviluppo sostenibile del territorio. Un'occasione di confronto per i sindaci del territorio salernitano per condividere i nuovi criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti organizzato dalla provincia di Salerno in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti. Il ruolo dei comuni è fondamentale per aumentare le risorse per i territori e accelerare il processo di cambiamento. Così il presidente della provincia Franco Alfieri nel corso dell'incontro ha la presenza per la Cassa Depositi e Prestiti, relazioni business pubblica amministrazione Sud Italia ai denti monitorati Francesca Mangio e Salvatore Russo e per il gestore dei servizi energetici funzione promozione e assistenza della pubblica amministrazione Irene Marsella. Io credo che l'incontro con Cassa Depositi e Prestiti sia fondamentale. Lo è stato per me nelle tante esperienze da sindaco che ho avuto perché gli strumenti dei prodotti che mette a disposizione Cassa Depositi e Prestiti sono davvero straordinari. Ovviamente non è né un ente né chi elargisce contributi in conto capitale, ma chi vuole fare investimenti, chi vuole trasformare una piccola parte della spesa corrente del bilancio in spesa di investimenti, io credo che l'interlocutore principe sia la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi fare un incontro, un seminario direttamente con i sindaci, con la parte politica che a volte lascia in mano agli uffici di ragioneria, agli uffici finanziari dei comuni questa conoscenza e invece credo che bisogna parlare alla politica. La politica deve sapere quali sono le cose che si possono fare, che si debbono fare, decidere, perché con Cassa Depositi e Prestiti a decidere le priorità del tuo comune non è il bando che esce ogni tanto e che a volte non incrocia le esigenze e le priorità della tua comunità, ma con Cassa Depositi e Prestiti sei tu che scegli qual è l'opera che vuoi finanziare. Per i sindaci non a caso negli ultimi tempi è sempre più forte l'esigenza di dover reperire risorse. Ma certamente, ma Cassa Depositi e Prestiti a volte è una scelta coraggiosa di decisione perché in un bilancio basta tagliare, io faccio un esempio, 50.000 euro, ovviamente non lo dico al comune di mille abitanti perché 50.000 euro sono soldi e sono a volte una missione impossibile. Ma chi ha un bilancio di milioni di euro, trasformare una spesa di corrente di 50.000 euro all'anno significa fare un finanziamento di un milione di euro. Questo dice tutto su come Cassa Depositi e Prestiti possa essere uno strumento e una leva formidabile per lo sviluppo dei territori. Una notizia che riguarda l'Ordine dei Medici, l'annuale cerimonia di consegna della pergamena e del logo d'oro artigianale dell'Ordine dei Medici e coloro che raggiungono i 40, 50 e 60 anni dalla laurea nel 2023 si terrà sabato 22 aprile alle 10 a San Joseph Resort. Prima della cerimonia che vedrà interessati circa 350 professionisti ci sarà la relazione e il voto per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo seguito dalle comunicazioni del presidente Giovanni D'Angelo. Adesso la nostra consueta rubrica dedicata a segnalarvi alcuni appuntamenti. Al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Il Sol dell'Avvenire di e con Nanni Moretti, Margherita Bui, Silvio Orlando. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro il giovedì non... Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Tra poco la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva, prima le previsioni del tempo. In collaborazione con... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ristorante Eureka, i sapori del mare Previsioni per domani Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti In montagna, schierite alternate a nubi sparse Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo E allora ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva La Salernitana ha ripreso gli allenamenti che combinerà nel match di sabato con il Sassuolo Paolo Sosa valuta le diverse opzioni per la formazione titolare Mentre la società apre i distinti agli allievi delle scuole calcio affiliate Per sabato insomma sarà pienone alla Reghi Anche i ragazzi delle scuole calcio affiliate Presenti sabato nei distinti Sosterranno la Salernitana di Paolo Sosa Nella gara interna col Sassuolo L'iniziativa del club ha subito comportato come conseguenza La caccia al biglietto di tanti genitori Desiderosi di vivere insieme ai propri figli La partita di sabato Che la squadra granata vuole vincere per ipotecare la salvezza La buona risposta fornita dalla tifoseria sul versante mini abbonamenti Anche se solo venerdì 21 aprile la Lega ufficializzerà ora reddata del match con la Fiorentina Ha soddisfatto la società Tra l'altro la ridotta affluenza di tifosi dall'Emilia aumenta gli impianti Per non aver potuto già in questa stagione aprire la curva nord alla tifoseria di casa Almeno in occasione di partite non a rischio Non vuole correre rischi Paolo Sosa Più che mai è deciso a chiudere a stretto giro la pratica a salvezza Il tecnico portoghese ha trasmesso alla squadra alcuni concetti di gioco Ma si è anche adeguato alle necessità di classifica Facendo professione di pragmatismo e concretezza La striscia aperta di 7 risultati utili inaugurata col successo sul Monza Ed alimentata dai 6 pareggi successivi Va ulteriormente incrementata e valorizzata A tal fine servirà una vittoria contro il Sassuolo Squadra imprevedibile e di difficile lettura sempre e comunque Perché all'indubbia qualità della sua rosa Fada contraltare l'incognita e l'approccio agonistico alle partite Salvo il clamoroso epilogo della gara di Verona Però nella seconda parte di stagione la squadra di Dionisi ha sempre fatto la sua parte La vittoria sulla Juventus ha portato in dote quei punti che mancavano Per certificare virtualmente nei fatti il raggiungimento della soglia di tranquillità Sabato la Sardana dovrà far valere proprio una maggiore voglia e necessità di mettere le mani sui tre punti Oltre all'aspetto tattico insomma sarà la componente agonistica a dover fare la differenza Il largo entrante è cui li validarà più sostanza al centro campo Mentre uno tra Mazzocchi e Sambia potrebbe tornare e trovare a destra per garantire corsa e spinta In avanti potrebbero giocare in tandem Piontek e Dià Ballottaggi aperti anche in difesa dove Jomber è entrato in difesa unendosi a Braderce e Vilena L'olandese sarà confermato in cabina di regia Mentre saranno minuturate le condizioni di maggiore che spera di rientrare al più presto Dopo lo stop per problemi muscolari delle scorse settimane Ed intanto torniamo sulla questione della convenzione Dal punto di vista però della società Gli ervolini e consiglieri di opposizione non hanno digerito l'accordo a cui manca Come avevamo anticipato nella parte del Tg dedicato alla cronaca All'ok del Consiglio Comunale La Salernitana continua a valutare la possibilità di affiancare al nome storico dell'impianto Quello di un brand internazionale La diffusa sensazione che la convenzione così come presentata l'altro giorno Possa essere un'occasione persa per Salerno e la Salernitana Si trasforma in certezza nella testa di Danilo Ierbolino Del resto le parole usate dal patron Granata per commentare i dettagli della stessa Già lunedì scorso a Roma non lasciano dubbi in proposito E' anche vero che la convenzione per l'are chi attende ancora l'ultimo ok Quello del Consiglio Comunale del 28 aprile Il nodo principale sta proprio nel fatto che per l'are chi non sia stata presa in considerazione Dall'amministrazione comunale l'ipotesi di una concessione pluriennale Che avrebbe invece ingolosito il club Granata Permettendogli di sviluppare progetti e iniziative che a termine attuali del nuovo accordo di fitto Scludono del tutto Sarebbe stato bello poter vedere un'are chi vive da aperto al pubblico tutti i giorni Magari per feste di compleanno per bambini, aperitivi con vista sul rettangolo verde, shopping negli store ufficiali Viaggi reali e virtuali nel tempo per godere del fascino e delle emozioni che regallano i ricordi La storia ultracentiana della serentana si è agito di conserva ragionando anche sui orizzonti temporali distretti Mentre i grandi investimenti richiedono periodi tempo ampi per poter essere ammortizzati La serentana sarà ancora ospite allo stadio Reghi dove potrà giocare le gare ufficiali e sostenere eventi allenamenti Lo stadio di proprietà o quantomeno in concessione pluriennale, due o tre decenni minimo È un orizzonte a cui tutti i club tendono per alzare il proprio livello di attrazione e competitività sul mercato Anche per sponsor di prestigio che vorrebbero affiancare il proprio nome a quello dell'impianto Per la Reghi ci sono stati diversi sondaggi ma il comune è stato freddo in merito con i posti del genere Nella convenzione le parti sono lasciate però aperta la porta ad eventuali cambi di scenario in corso d'opera Parallelamente al discorso stadio, la storia ultracentiana sta cercando di dare impulso anche a quello per il centro sportivo Forgiare i talenti in casa avendo a disposizione strutture edonee resta l'obiettivo di Danilo Irvolino Intanto il futuro è già cominciato Il DS De Santis e il tecnico Paolo Sosa sono considerati punti fermi per programmare la prossima stagione Ieri prima di Napoli, Milan di Champions, il DS De Santis ha fatto visita allo Stato Maggiore Rossonero per un Summit di mercato L'Alta Eretane ha messo in vetrina Boulaye Dia che il club De Santis ha riscatterato la vigliarale per 12 milioni per poi valutare eventuali offerte Il senegalese piace molto in Serie A ma anche dal mercato estero ci sono già stati dei sondaggi per lui Anche Daniluk e Mazzocchi hanno diversi estimatori In casa Milano lo scorso inverno De Santis aveva pensato al centrocampista belga Aster Franz, classe 2002 di proprietà del Vosburg Un allievo di Paolo Sosa ai tempi del Bordeaux stato di Asinadli, classe 2000, poco impiegato da Pioli A gennaio c'erano stato un contatto col Toro per Caramò, il club di Cavoli, tra i più interessati a Mazzocchi Tanti calciatori seguiti dal club Renata anche all'estero, l'ucarino Dobbic e il francese Mopè Sono rimasti in erata anche dopo gli assalti non andati a buon fine lo scorso agosto Un altro incredibile pezzo di storia dell'Unione Sportiva Salernitana 1919 Fa ritorno a casa dopo un incredibile viaggio durato 90 anni Dopo aver riportato a Salerno innumerevoli cimeli Granata, Mac Teanimo, l'associazione presieduta dal giornalista Umberto Adinolfi È riuscita ad individuare una casacca da gioco della Salernitana risalente alla stagione calcistica 1935-36 Si tratta di una maglia a strisce verticali bianche e celesti praticamente identica a quella indossata dai pionieri della bersagliera all'atto della fondazione La maglia, conservata in ottime condizioni, appartiene non ad un collezionista, bezì ad un salernitano di terza generazione residente negli Stati Uniti E prima di chiudere questa edizione del nostro Tg consentiteci di esprimere la nostra vicinanza alla tifoseria Granata Il lutto per la scomparsa di Michele Pecoraro, socio del Salerno Club 2010 La redazione di TV Oggi Salerno partecipa al lutto della famiglia E con questo è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti